torniamo a curiosare tra i tanti progetti che la regione lazio porta qui in fiera e appunto di fiera parliamo e specialmente di sicurezza quindi questo è esattamente il posto migliore per questo connubio e per farlo che a modo sul tavolo si sul palco davide richiardi di bim digital che tocchiamo sul tavolo è l'unica cosa che manca ciao davide benvenuto come stai tutto bene grazie allora che ti sei fatto un giretto più o meno più o meno tantissimi business meeting tantissime relazioni bellissimo grazie che progetto state portando qui allora qua stiamo portando un progetto di sicurezza che ci permette praticamente di poter monitorare durante gli eventi tutte le persone che si muovono all'interno degli stabili e soprattutto in caso di evacuazione capire se tutti sono evacuati che è fondamentale perché probabilmente è una cosa qui uno non pensa normalmente ci vogliono delle ore per capire quanta gente entrata effettivamente se sono usciti tutti diciamo che se c'è qualcuno che si è fatto male ed è rimasto in un angolo dello stabile capirlo ci vogliono delle ore certo anche per mettersi appunto di sicurezza perché uno è per lì in una situazione di panico ma insomma non è che è molto complicato quindi noi abbiamo fatto un sistema apposito però per gestire questi tipi di dinamiche per fare in modo che subito dalla control room sanno quanta gente c'è dentro e quanta gente è uscita effettivamente come funziona questo sistema funziona con un miscuglio di internet of things e intelligenza artificiale che quindi è in grado di riconoscere quante persone sono entrate dove sono effettivamente come sono sono disposti i flussi di persone per permettere dalla control room dai vigili del fuoco o qualunque persona che sta effettivamente dirigendo l'evento capire come si sono diretti all'interno si parla tanto di sicurezza e di intelligenza artificiale in questo caso ci si preoccupa vero invece in questo caso è applicata alla sicurezza assolutamente sì bim digital cinque anni come va ci fai un bilancio sono stati cinque anni importanti abbiamo fatto davvero tanti progressi abbiamo deciso di internalizzare tutta la parte di sviluppo dei prodotti quindi da zero dall'idea dal capire cosa vuoi fare al fare il design proprio da uno scratch portarlo fino al dispositivo finale che stai portando effettivamente al cliente con le chiavi in mano quindi tutta questa esperienza ci ha permesso effettivamente di fare qualunque tipo di dispositivo unificando tutta l'esperienza che abbiamo nel campo IoT con l'intelligenza artificiale quindi davvero abbiamo possibilità infinite ti vedo ti vedo carico carichissimo seguo qualunque progetto c'è in azienda quindi carichissimo ecco a proposito qualunque progetto c'è perché sono tanti adesso ce ne raccontato uno vuoi farci un'anticipazione o illustrarci altri progetti a cui lavorate assolutamente sì diciamo che ci siamo applicati sia nel campo della sicurezza sul lavoro che è un campo in cui tutti i giorni sentiamo altri giornali che parlano purtroppo purtroppo di grandi incidenti e lì ci siamo focalizzati fin da subito quindi creando un ecosistema di dispositivi IoT quindi non un singolo dispositivo che fa qualcosa ma collegandoli tutti insieme e permettendo effettivamente di avere un controllo totale su quello che sta succedendo in azienda mantenendo la privacy che questo è fondamentale decisamente mantenendo la privacy però che in caso di incidente effettivamente l'azienda sa cosa deve fare effettivamente chi deve recuperare e per quale motivo quindi c'è ottimizzando tutto il processo effettivamente di rescue no certo di salvataggio davide faccio anche a te una domanda che ho fatto su questo palco spesso semplicemente perché riprende anche il tema della nostra opening conference no quindi a proposito del dna del maker secondo te negli anni questi maker che voi ovviamente come sono cambiati se sono cambiati beh è cambiato tanto perché da quando siamo partiti in cui la community comunque era già grande ma non grande come adesso ad oggi ci permette di poter accelerare sui progetti avere quel quell'idea in testa in cui pochi fortissimi che vanno diretti all'obiettivo che hanno competenze molto wide quindi aperte in tanti campi diversi è vero e questo ti permette davvero di poter fare qualunque cosa è quello che dicevo prima dicevo i cinque anni di bim digital no ci siamo ritrovati a poter fare qualunque cosa questo perché abbiamo un team fortissimo tutti i maker tutti che sanno fare tutti tutto ma qualcuno che ha qualche spicco in più in qualche direzione quindi ci permette di concretizzare le soluzioni davvero in brevissimo tempo e con budget bassi da maker no da maker esatto quindi non ti serve essere una grande azienda per poter fare qualcosa bisogna essere dritti all'obiettivo e sfruttare tutti gli strumenti che oggi sono disponibili che sono tantissimi bene e allora grazie grazie a voi chi volesse adesso dare un consiglio magari qualcuno ci sta seguendo da casa vuole dare un consiglio a chi invece può essere qui dove vi trova noi ci trova nello stand della regione lazio nel padiglione 3 ragazzi credeteci puntate a far qualcosa puntata a far qualcosa perché gli strumenti sono tutti e poi la community arriva la community è sempre presente grazie grazie mille davide ricchiardi grazie mille davvero